Massimo Bitonci, perché alla Lega Nord non piace questo provvedimento sul lavoro del governo Renzi? È un provvedimento pessimo, ci saremo aspettati una riforma della Fornero che ha creato migliaia e migliaia di esodati, ci saremo aspettati una maggiore flessibilità per le imprese e per i lavoratori, ci saremo aspettati una detassazione, quello che attendono le nostre imprese del Nord, un taglio del cuneo fiscale, tutto questo non c'è in questo decreto, è una pessima scelta, noi voteremo contro, ma si è aperta una profonda crepa anche nella maggioranza, perché è stato annunciato anche dal Ministro come un decreto che doveva risolvere i problemi del mondo del lavoro, ma è un decreto che non creerà neppure un posto nuovo di lavoro.